Guardi a Snyder, cerca a sinistro, lo ha subito, Snyder, 1-0, subito la parola da Vietro, al pionero, splattino a sinistra di Snyder, all'incrocio le mani, stupendo, perché naturalezza ha controllato il pallone, subito di più, l'intenzione l'ha scaricato all'incrocio dall'altra parte. Un cilicipetto per Moriello che si è ripreso, Moriello, 3, peninati di rigore, Moriello, la palla sul sinistro, la grande risposta di Giulio Cesar, 5 minuti da partire già splendida. Grande veronica di Lucinic, veniva quasi in zona di giro, c'è Cassetti a destra, Lucinic lo vede, è col panore per Cassetti che va dentro, fabio, semplicio, 1-1, facendo scorrere la palla con grande velocità, così ha fatto molto bene la Roma con questa percursione, il pallone al piede aspetta del tempo, Giulio c'è l'inserimento di Cassetti, il Cassetti mettono a palla intelligente sul secondo palla, l'ha chiuso molto bene, fuori per Moriello, Giulio Cesar con due minacoli, ancora Moriello, ancora Giulio Cesar, e poi via, tolto per il pallone, che partita che stiamo vedendo. Stai che cerca la porta, Giulio c'è l'inserimento di un'altra parte, spinta poi di Cassetti, Lucinic lo vede dentro, si è preso, posiziona per noi, si è preso, Giulio Cesar, ancora si è preso, Giulio Cesar, poi Moriello, riesce ad allontanare, adesso, arriva Sneijder, a sostegno, dentro per le 2, arriva anche Michael, e torna contro 1, dentro c'è Pazzini, ancora tornare di vigore, le valentesse dopo, le sinistre, 4-1, 2-1, 35 minuti, rispetto a Palaburo. Volevamo vedere nel tantissimo tempo una partita così, il fallo ha fatto l'Inter, lo potevano fare la Roma nell'azione precedente, non mi sembra ancora un'incertezza del portiere su questa giocata di Pogheri, 3-4 sinistro, ma ha partito sul secondo palla, ma che splendida partita che stiamo vedendo, è incredibile. E' proprio Pazzini, posizione regolare, Pazzini dà il vigore, favore il provviso, caccio di vigore, il rosso. Sacco, Toto, 27esimo con stagionale, 3-1 per l'interno. Fogo libera a sinistro, Snyder sale, Polosette sulla borsa, le valentate 12, Pazzini della parte opposta, è proprio Pazzini, Giulio Sergio, vola alla sua destra. Caccia, Snyder, forte e tesa sul secondo palo, e Taro, Giacomo, Rocca, 4-1. Se non c'è dentro il secondo palo, puoi essere sorpreso, e così l'ha fatto in tutto molto bene ancora una volta lì. Merticare Milino in posizione regolare, Milino ancora, Snyder, Sergio. Abbi Rossi di reazione Milino, Uginic, 4-2. C'è pure il coraggio, andrà a prendere questa pala, andare verso la porta, e poi, interno, spiega a sinistro, andrà a impattare, perché il micro si sarebbe andato fuori. Ho le perso, lui è stata cavalla, Palo, vai la via Simone, via via, 4 a 3, ma che panchina è Peppe? Sembrava finita questa gara e l'hanno mai riuscita su due situazioni da fermo a trovare ad accorciare le distanze e dare ancora insomma interesse a questa gara a 10 minuti più recupero dalla fine. Come vado da Tatei, passa lo stesso, cambiasso, tetto, vai la tau, c'è la sasso e se la mancia, finito. E' un'altra di rigore, ancora il do, Giulio Sergio, poi guarda, Cianetti, Cappiasso, 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 5 a che? E' sembra un rischiava tutto per tutto, in questa situazione sono allargato appuntamente e con un muro una volta, lui decisivo con le sue percussioni a spancare tutta la difesa. Grazie.